Dunque ragazzi, vediamo un attimo di attenzionare la versione avanzata, l'installer avanzato di Zibo. Allora, ho aperto questa pagina per farvi vedere, cioè in giro nel mondo ci sono delle persone che si preoccupano di fare anche qualche altra miglioria allo Zibo originale. Uno di questi è un certo Rashid Guseinov, un ragazzo dell'est, che si è preoccupato di rilasciare due mod migliorative, soprattutto del cockpit interno del 737. Per scaricarle bisogna andare alla pagina una specie di Facebook russo, fare una donazione di circa 10 euro, e lui dopo qualche ora vi rilascerà due file da lui prodotti, uno chiamato RGMod e l'altro è il Texture Pack. Ora, come vedete, io nella prima parte avevo scaricato la 330B, perché nello specifico Rashid aveva scaricato la RGMod 330B, cioè significa che la RGMod e la versione Zibo devono avere la stessa lettera, quindi se io scarico la 330B, devo avere anche la RGMod 330B, o viceversa, in basso a quello che scaricate per prima. Ovviamente lo Zibo deve essere il full package. Quindi, a questo punto che i file scaricati sono diversi, perché avremo uno Zibo, avremo due patch grafiche, un RGMod e una texture pack, avremo la VTAB scaricato prima, avremo il Terrain Radar, Tutti questi file non possono più essere installati manualmente, ma dobbiamo affidarci a un installer, bginstaller in questo caso, sempre sviluppato da un ragazzo dell'Est. Questo lo cerchiamo su Google, e il bginstaller ci punterà direttamente il sito, l'org.expert.org, e da lì lo scarichiamo. Lasciamo tutti i file, a differenza dell'installazione manuale, questi file li lasciamo compattati, perché poi penserà l'installer a distribuirli in una maniera giusta. Lo avviamo, avviamo il nostro installer, e avremo qui il nostro bel menu. Allora, abbiamo in alto, ci presenta i modelli 737, ce ne sono sei, divisi in due gruppi da tre. I primi tre sono quelli con le luci landing classiche, gli altri tre sono quelli con le luci landing a LED, e per ogni versione c'è la versione senza winglets, con le winglets, e con le winglets doppie a scimitarra. Quindi, senza winglets, LED, o winglets, e quindi senza scimitarra. Qui abbiamo anche una parte per le 739, che ancora non è implementata. Andiamo subito a vedere il menu 7, nel settings, nel settings andremo a mettere il nostro eseguibile X-Plane, lo andremo a cercare, eccolo qui, puntiamo questo, e nel secondo campo andiamo a puntare proprio la cartella, la cartella di X-Plane, quella principale, questa qui, dove lui poi troverà i nostri file, sono questi qua, i file che noi qua abbiamo messo all'interno. fatto questo, scegliamo l'aeroplano che vogliamo installare, in questo caso io voglio installare quello con le winglets, semplice, e se tutto è a posto, lui ci presenterà i vari file che trova nella cartella, quindi lo zibo, che è qui, e l'ho trovato, la vtab, l'avevamo scaricato, ed è qui, l'ha trovato, il terrenizzato, l'ha trovato, e poi scegliamo il texture pack, ecco, se lo vogliamo a 2K o 4K, io preferisco il 2K perché è più fluido, non apprezzo tanto la differenza col 4K, e l'antenna. Fatto questo, andremo a, andremo a, vedere, a verificare la versione che stiamo installando, cioè accettiamo che sia tutto a posto, quindi la stessa versione di zibo, con l'ARGMOD, il terreno in radar è a posto, la vtab a posto, e il texture pack è a posto. Fatto questo, lui ci presenterà anche le nuove versioni di zibo, però al momento non ci interessa. Fatto questo, andremo qui, e possiamo lanciare l'installazione. Dopo qualche minuto, nella nostra cartella aircraft, ci troveremo un file come questo, ad indicare che lo zibo è stato installato. Con questa seconda parte, intanto vi fermo qui, poi ce ne sarà una terza in cui spiegherò, e vedremo all'interno sia il cockpit che tutte le novità. e vedremo all'interno sia il nostro canale. e vedremo all'interno sia il nostro canale.